Ok, vi voglio far vedere Per capire come migliorare la compilazione di bibliografia Soprattutto su un documento tecnico-scientifico Vi voglio far vedere questo tool Che è un tool totalmente open access gratuito Che si chiama Zotero Zotero è un tool innanzitutto multipiattaforma Perché funziona su Mac, Windows, Linux e anche su iOS Quindi possiamo usarlo un pochino ovunque Ed è un tool che possiamo scaricare dal sito Che è zotero.org E ci dà la possibilità di scaricare Identificando il nostro sistema operativo automaticamente La versione più adatta a noi Questo download che io ho già fatto Fa scaricare di fatto due cose Una è un tool sul nostro pc E due è un plugin all'interno di Microsoft Word O LibreOffice se sono installati Quindi si installano due cose Il zotero connector è un tool che viene utilizzato Per salvare bibliografia direttamente Quando la stiamo guardando Io non lo uso tantissimo Quindi questo lo salterò un po' Comunque vi faccio vedere Che cos'è zotero Com'è Come si apre Come funziona E perché ci risolve un sacco di tempo Quando dobbiamo fare le bibliografie Allora Io me lo sono già installato Vado su Zotero Mi si apre Eccolo qua E all'interno di zotero È organizzato in librerie Vedete che io ho una libreria enorme Tutti questi sono Diciamo Articoli scientifici Che io ho letto Scaricato Se io clicco sull'articolo scientifico Mi viene fuori L'articolo scientifico Se io faccio delle note Sull'articolo scientifico Le note vengono Vengono salvate E questa è di fatto Una enorme libreria Quindi una enorme Libreria di articoli scientifici Che io mi sono salvato nel tempo Una cosa molto molto Carina Secondo me Di zotero È questa Vi faccio vedere Per esempio Cosa succede Quando trovo Un Bell'articolo Per esempio Io vado su google scholar Cerco Uno dei miei articoli Questo è un articolo Che abbiamo fatto Qualche tempo fa E Vado qui Certo i cookie Leggo Magari Mi scarico il pdf Eccolo qua Mi ha scaricato il pdf E vedete che Nei miei downloads Ho il pdf Pensiamo che io voglio fare Una nuova libreria Una nuova In realtà la libreria È organizzata in cartelle Che sono un po' come Degli scaffali Su questa libreria E posso chiamarla Esercizio Quindi questa è una libreria Vuota dove io posso andare A mettere esercizio Se io prendo Il pdf Che ho appena creato E lo inserisco Dentro esercizio Vedete che Che in pochissimo tempo Lui riconosce Qui dentro Nelle proprietà Che cosa c'è dentro Questo pdf Quindi il titolo Gli autori Riconosce il journal Riconosce il volume L'issue Eccetera Questo lo fa Attraverso L'url Eccetera Eccetera Addirittura L'abstract Questo lo fa Attraverso I tag Che ci sono All'interno del file pdf Quindi All'interno del file pdf Ci sono le informazioni Che questo programma Prende E si va a cercare Molte volte Lo implementa Lo implementa Queste informazioni Vengono implementate Andando sul sito Dell'articolo E chiedendo Ulteriori informazioni Al sito Dal quale L'articolo È stato Dal quale L'articolo È stato preso Questo presuppone Di scaricare Il pdf Certo Oppure Se non potessi Scaricare il pdf Su Google Scholar C'è sempre Questa opzione Cita Vedete Cita Avete diversi tipi Di citazioni Poi avete questo Che è un bibtex E lui vi dà Questa sorta Di codice Che voi potete Copiare Copiare Andare Su La libreria Import Import From Clipboard Dovrebbe essere Questo Se non mi sbaglio E vedete Che lui Anche senza avervi Scaricato Il pdf Vi ha Scaricato La citazione A questa libreria Ok La citazione Scusate A questo A questo articolo A questo articolo Scientifico Questo non funziona Sempre perfettamente Per esempio Vediamo Se ha interpretato Correttamente Questo Sì Mi sembra di sì A volte Magari ci sono Dei dati mancanti Ci sono Vedete Questo Sh87 Sh97 Secondo me Ha sbagliato In interpretare Le pagine Ed è 87 97 Ok Quindi potete Controllare E cambiare E cambiare I dati Se nel caso Pensiate Non siano Non siano Accurati Ok Quindi questa È una cosa Che vi aiuta A organizzare Una libreria Che cosa vuol dire Avere una libreria Organizzata Di referenze Scientifiche Vuol dire Che vi aiuta Immensamente Nel momento In cui voi Dovete andare A citare Queste referenze Scientifiche Adesso vi faccio Vedere Come Zotero Si collega Word Allora Mi sono Aperto Un foglio Di Microsoft Word Chiamo Documento Ok E Mettiamo Che Io Abbia Qui All'interno La necessità Di Citare Il primo Articolo Che ho Scaricato Vedete Che ho Qui Una cosa Che si chiama Zotero Mi ha Aggiunto Questo plug-in Add Edit Citation E ho Necessità Di citare Qualcosa Qui Mi propone Diversi Stili Di Citazione Per esempio Posso Posso Utilizzare L'apa Ok Sono diversi Tipi di citazioni In realtà Se ne possono Aggiungere Anche Altri Vedete A seconda Dello stile Di citazione Del journal Che vi richiede Un determinato stile Di citazione Voi potete andare Qua Per esempio C'è un journal Vediamo se Hanno messo C'è un journal Che noi usiamo Spesso Che si chiama Geomorphology No Scusate Sul site Scusate Ero sulla parte sbagliata Vado su site Get additional styles Possiamo vedere Geomorphology Eccolo qua E lui mi ha aggiunto Lo stile Di geomorphology Che magari è un journal Sul quale io voglio Sul quale io voglio Lavorare Qua Nelle Diciamo Nelle Nelle C Nelle All'interno Delle 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 citazioni Ho anche La possibilità Nel caso ci fosse Stato qualcosa Che è andato storto Nell'installazione Di reinstallare L'add-in Per microsoft word Eccetera Quindi potete Potete anche Se non vedete Quell'add-in In microsoft word Potete Potete installare Molto bene Qui mi chiede Citation option Include url of paper In article references Di solito Non lo faccio Però Queste sono scelte Che potete fare Torniamo Al file Word Che avevamo Ok Abbiamo detto Necessità di citare Add edit citation Mi chiede Come voglio citare A questo punto Gli scelgo Geomorphology Dato che l'hanno messo Ok E Io voglio citare Questo Articolo di man Che è Multidecadal Eccolo qua Ce l'ho tre volte Perché l'ho salvato Più volte Necessità di citare Manetal 2023 In realtà Qui posso Decidere Che non voglio Parentesi Quindi tolgo Queste due parentesi E punto Poi Sto cercando L'erosione In Ghana È importante E qui voglio citare Magari Quello che hanno detto Questi altri autori Brepong Brepong Tac Brepong etal 2021 Vedete che ho inserito Due citazioni Che sono codificate All'interno Di LinkedIn Quando voglio andare A fare la lista Delle citazioni Alla fine Del mio documento Quello che dovrò fare È mettere una lista Di citazioni E Cliccare Su Add Edit Bibliography Vedete Che lui Automaticamente Mi mette Le citazioni Nello stile Che io ho scelto Quindi Nello stile Che io gli ho dato E Nel Nell'ordine Alfabetico Corretto Questo è un grandissimo Grandissimo Aiuto Quando ho un documento Con tante citazioni Una tesi di laurea Qualsiasi Qualsiasi cosa Che richieda Di tenere ordine Nelle citazioni Le ordino Nella libreria Le cito qua dentro E poi mi vengono aggiunte Ora Ora Diciamo che Ci possono essere Dei problemi Nel senso Magari qui Ci possono essere Degli errori Ci possono essere Cose incorrette Per cui bisogna Sempre rileggere La bibliografia E cercare di capire Se il software Ha fatto qualcosa Di sbagliato Se ha fatto qualcosa Di sbagliato Per esempio Vediamo se Magari vorrei Fare che Vorrei che questo Geographic Information System Sia maiuscolo Per esempio Adesso sto inventando Quindi se ci accorgiamo Di qualcosa Che non torna All'interno della biografia Devo andare Di nuovo Dentro Zotero Vediamo se lo trovo Eccolo qui Andare di nuovo Dentro Zotero Cercarmi questo Brepong E dire Bene Io voglio che sia Geographic Information System Maiuscolo Ok Quindi a questo punto L'ho cambiato All'interno Del mio sistema Qui E torno Su Word Dovrebbe funzionarmi Con un refresh E vedete Che ho fatto Un refresh E mi ha messo Geographic Information System Quindi Rileggete la bibliografia Bisogna essere sicuri Che sia stata fatta bene Però A quel punto Vado a modificare La libreria Dall'altra parte Rinfresco Faccio un refresh Da questa parte E mi mette Tutto insieme Quindi Questo è un modo Rapido Veloce E Soprattutto Molto Molto facile Di fare bibliografie Pensate che Io Per la mia tesi di laurea Parecchi anni fa Non tantissimi Ma parecchi La mia primissima tesi di laurea Ho dovuto fare tutto a mano Quindi dovevo assicurarmi Che effettivamente Ci fosse una virgola Dopo l'ultimo nome Poi il punto Dopo l'anno Eccetera Questo è importantissimo Avere le bibliografie Formattate bene Perché la bibliografia È Il documento Che ci dice Dove andare a trovare le fonti Quindi è molto Molto importante Che tutto sia fatto Adeguatamente Questo è quanto Zotero Tool gratuito Facilissimo da usare Che vi risolve un sacco di tempo